E ben ritrovati, come ascoltavamo dai titoli, l'apertura affidata al viaggio iniziato oggi di Cristian Cappello in ricordo di Marta e di quel bimbo che non è mai nato. Mazzi di fiori bianchi lanciati nel Brenta, abbracce e fotografie, qualche lacrima, grappoli di palloncini che prendono il volo. Il lungo viaggio di Cristian Cappello è iniziato questa mattina alle 11.35 dalla sua casa di via Colombare ad Angarano. Il saluto dal sindaco Riccardo Poletto, una breve sosta sulla ponte dove lo attendeva il presidente della sezione Ana Montegrappa, Giuseppe Rugolo, poi via verso Sandrigo, la prima delle 325 tappe del Giro d'Italia per beneficenza che Crist doveva compiere con la compagna Marta Lazzarin. La donna che proprio oggi, il 2 aprile, lo avrebbe reso papà di Leonardo se un tragico destino non avesse spezzato il sogno della coppia. Secondo me la morte è molto meno forte della vita, bisogna continuare a vivere e bisogna farlo con positività. Cosa porterai con te di lei in questo viaggio? Il suo sorriso. Cristian ha trasformato il dolore in motivazione. Lo aspettano quasi 4000 km a piedi attraverso 17 regioni, dove raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica grazie all'Onlus Marta for Kids. Tantissima gente mi vuole ospitare e siamo coperti per i primi tre mesi. La stessa sera che ci è mancata Marta, Cristian ha avuto l'illuminazione del progetto, mi ha parlato del suo progetto e da subito siamo detti che lo affiancavamo e che non sarà mai solo, sarà come un nostro figlio e lo seguiremo come fosse assieme a Marta e a Leonardo. E al suo fianco, passo dopo passo, Chris avrà anche quanti vorranno seguirlo sia fisicamente che virtualmente. Fisicamente mi si può trovare grazie a una mappa che è presente nel blog in tempo reale, fa vedere la mia posizione, quindi chi si vuole unire mi troverà lì. Virtualmente con blogdiviaggi.com ogni sera posterò i miei racconti oppure tramite Facebook e Twitter, cioè tutti i social media saranno attivi.